Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un dono unico. Spero dopo la condividere a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. La vita è un dono unico. Bisogna saperla difendere da ogni problema, attacco. Bisogna fare in modo da vivere in maniera logica, in maniera degna, in maniera forte, culturale e sapiente. Solo così potremo valorizzare un dono unico ricevuto. Solo così potremo rendere il forte significato della sua essenza. e quindi va difesa dalla malvagia imprudenza e sempre resa vivida e potente nel suo significato. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un dono unico. La vita è un dono unico. Bisogna saperla difendere dalla malvagità del mondo che rende la vita impotente. La vita va sempre coltivata per esaltare i suoi degni significati e con amore va elogiata e riempita dei ricchi presupposti. Un dono unico e raro, ricco di forte significato, degno del dolce senso, del ricco e sacro coinvolgimento. La vita va difesa dalla malvagia imprudenza e sempre resa vivida da ogni santa costanza. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.